Raga, farò un video, farò un video, uno scherzo a mio cugino Vincenzo Ok, raga, partiamo Vincenzo! Vincenzo! Vieni! Eh? Devo fare un gioco, eh? Allora Qua c'è la bottiglia, eh? E farò comparire Aspetta Guardate la casetta, una specie di casetta del Monopoli Allora, entra dentro l'acqua Eh? Guarda Eh, che cosa succede? Eh, la cosa Io mi metto con il mio delvelo Ok Ok, guarda cosa c'è dentro È un video! Ah, frito male Ok, guarda cosa c'è dentro l'acqua Ok, guarda cosa c'è dentro l'acqua